Alberto come va? Ciao Fabio. Ciao. Senti, oggi mi ha fatto come indicato dal mio background qui. Sì, perché vogliamo parlare delle nuove regole sull'intelligenza artificiale adottate dall'Unione Europea qualche giorno fa? Allora, cominciamo un po' a fare qualche piccola e chiosa. L'Unione Europea, da un po' di anni, invece di preoccuparsi di promuovere, spingere, sostenere l'innovazione, si preoccupa di mettere i bastoni fra le ruote all'innovazione. Il dato, che penso sia sotto gli occhi di tutti e sia incontrovertibile, è che in Europa non abbiamo campioni dell'IT, con poche eccezioni, tipo SAP, che ahimè rappresenta un po' un approccio, non dico antidiluviano, però decisamente non sulla frontiera dell'innovazione. Quindi non abbiamo social network, quei pochi tentativi che hanno provato a mettere in piedi in Europa sono falliti miseramente, non abbiamo un motore di ricerca, nonostante anche in questo campo ci siano stati dei tentativi. Purtroppo, analogamente, finiti in qualche discarica. Sull'e-commerce, a parte così qualche lodevole eccezione, non abbiamo né Alibaba, né Amazon, né altro. Però abbiamo una regolamentazione sulla privacy, quella che ci costringe ogni volta che entriamo in un sito web a cliccare accetta i cookies e rifiuta i cookies e quali cookies vuoi. Una rottura di scatole totale che non porta alcun beneficio, perché ma che cavolo ne so dei cookies che mi mettono sul sito web e che cavolo ne so quando dico accetto o rifiuto quali sono le implicazioni, mi dovrei andare a studiare tutti gli infestizi di un sito. Quindi è solo una regola burocratica di chi non è capace nemmeno di scrivere, non dico un programma, non dico di fare un sito web, ma nemmeno di capire un if-then instruction. Diciamo la verità, per parlare di AI, ci sono due start-up, uno francese e uno tedesco su AI. Sì, ma quella francese per esempio vuole fare l'intelligenza artificiale democratica, è una specie di fondazione, insomma un non-profit. Tu, voglio dire, non è quello... È rispetto a... poca roba rispetto agli sforzi di Oracle, Microsoft, Google e gli altri start-up che sono in giro sul mercato americano, effettivamente, molto poca roba. E' così, ogni tanto poi l'Europa si mette nella scia e va a rimorchio, mettiamola così. Quindi c'è questo, chiamiamolo così, approccio, che, insomma, approccio, questa vulgata, secondo la quale l'America innova, la Cina copia e l'Europa leggifera. Regola. Regola, esatto. Adesso, sono venuti fuori con questo meraviglioso progetto di regolamentazione dell'intelligenza artificiale e vediamo un po' di che si tratta, Alberto. Tu hai avuto l'occasione di dare un'occhiata... Cerca di vieta il... La... come si chiama? L'intelligenza artificiale generativa, no? Quindi vieta l'intelligenza artificiale in alcuni campi, come non puoi fare rilevazioni biometriche. E poi dimmi tu, sì, l'ho letto molti articoli su questo, però sono rimasto così anni in preschio e ho lasciato perdere. Allora, su alcuni punti, come ad esempio, sottolinei tu, sulla possibilità di raccogliere dati biometrici, che significa la sorveglianza con telecamere nei luoghi pubblici oppure nei luoghi privati o nei luoghi dove passa un numero congruo di individui. Ecco, quello può avere un senso, che non possono limitare la raccolta di dati, sicuramente la conservazione di questi dati, perché ci sono problemi di privacy, di libertà individuali, e fin là. Diciamo nulla a questio, o poca a questio, se vogliamo fare così, gli spiritosi. Poi però introduce questa classificazione in sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio o a basso rischio. Quindi segue, secondo le definizioni introdotte da questa regolamentazione, un approccio risk-based, ok? Quindi più alto il rischio, più strette le regole. l'ambizione addirittura è quella di fissare degli standard globali. Allora, io ho l'impressione che questi non hanno capito come funziona il mondo, e sicuramente come funziona il mondo dell'high tech. perché questo è un mondo in continua evoluzione. Non è che arriva il burocrate con la sua valigetta, la sua cartellina, e comincia a dire ah, ma questo è un sistema ad alto rischio, e allora bisogna fare come vi dico io. Mentre il sistema a basso rischio, a giudizio poi non si capisce di chi, dovrebbe avere regole più basche. Ti sembra, Alberto, questa roba? Ma no, ma soprattutto siamo veramente gli albori dell'intelligenza artificiale. Ancora non sappiamo in che modo si potrà sviluppare. Sì, di pericoloso ancora non abbiamo visto niente se non i deepfakes, quelle dove fanno parlare il dove ti creano l'interno importante e gli fanno dire cosa che vogliono. C'è l'interno di cantare. Sì, ma a parte questo, l'intelligenza artificiale ancora c'ha GPT per me è una sciocchezza, ossia è un modo per fare editing di lettere, per fare qualche immagine, però non mi impressiona. Io sul mio lavoro non riesco mica ad usarlo c'ha GPT, non saprei cosa farmene. Sì, insomma, siamo ancora a livello di innovazioni in ambiti abbastanza dico limitati ma comunque con caratteristiche molto ben precise. Tra l'altro c'era c'è un paper di University of Pennsylvania e OpenAI che elenca o cerca di individuare quali sono le professioni più impattate dall'intelligenza artificiale, cioè quelle dove ricorrere a questi sistemi potrebbe causare una maggior perdita di posti di lavoro. Allora, al top della classifica sono i ragionieri i contabili quelli che si occupano di fare i bilanci. Poi voglio vedere perché magari questo è vero in America voglio vedere se in Italia con delle regole che cambiano ogni sei mesi e con leggi scritte con i piedi se questo sarà vero. Per dire alcune funzioni di contabilità potranno essere svolte da un sistema di intelligenza artificiale. I programmatori sono un'altra categoria molto colpita questo ce l'aveva già detto Marco Beccattini lui poi proprio per esperienza personal è interessante il fatto che in teoria e questo non lo posso giudicare dovrebbe essere molto più facile dovrebbe essere molto più facile programmare esatto ecco io però questo non sono in grado di definirlo perché non sono un programmatore però anche con GPT è possibile comprimere migliaia di linee di codice questa è una cosa interessante che però può aumentare moltissimo la produttività dei software developer intendiamoci noi siamo un mondo che ha bisogno di grandi aumenti di produttività con 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 il caro demografico che abbiamo l'unico l'unico via per la crescita nel futuro è attraverso un aumento di produttività quindi benvengano strumenti che riescono ad aumentare la nostra produttività ma io non capisco perché preoccuparci adesso di regolare un qualcosa che ancora non abbiamo visto nel suo nel suo sviluppo pieno mi sembra un po' prematuro quello di regolare sì concludo il diciamo l'elenco delle professioni i traduttori e questo decisamente è vero oggi come oggi puoi tradurre un testo ma anche abbastanza complicato con un programma di intelligenza artificiale e il risultato è piuttosto buono insomma è molto spesso molto migliore di quello che può fare un umano anche scrittori ma per esempio c'è stato uno show per Hollywood degli sceneggiatori che protestavano perché le case di produzione cinematografica ricorrono con maggior frequenza a programmi di intelligenza artificiale per scrivere le sceneggiature delle serie televisive no? ma perché? perché molte di queste serie televisive per esempio quelle sui poliziotti delle varie città Los Angeles Chicago New York eccetera eccetera sono la stessa pappa le variazioni sul tema saranno una dozzina e le riciclano più o meno a intervalli regolari quindi lì effettivamente l'umano diciamo così non potrà essere sostituito completamente ma almeno nella prima stesura che è quella poi sempre più gravosa l'umano avrà meno da fare ma comunque adesso ti leggo lo leggo a beneficio di chi ci ascolta i maggiori gli elementi chiave della proposta che poi è un accordo preliminare quindi non è che entrerà in vigore fra tre giorni comunque anche secondo così gli eseggeti di questa regolamentazione ci vorranno anni per affinarla per definire che cosa è il rischio chi va a controllare la corrispondenza tra il sistema e la definizione di rischio contenuta negli articoli di legge eccetera eccetera comunque bisognerà regolamentare numero uno diciamo così degli elementi principali tutti i modelli di intelligenza artificiale ad alto impatto che possono causare rischi sistemici nel futuro oppure anzi e in aggiunta i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio ditemi voi se una cosa del genere ha un senso compiuto ma che cosa è un rischio sistemico in futuro ma vogliono evitare la discriminazione a parte che le applicazioni militari sono esenti quindi il rischio che sia l'intelligenza artificiale a sparare un missile non viene contemplato però vogliono evitare vogliono evitare che per esempio che per esempio aspetta aspetta che mi sono perso che ci sia discriminazione all'algoritmo dell'intelligenza artificiale che non ci sia un algoritmo che favorischi i bianchi rispetto ai neri quelli alti rispetto a quelli bassi quelli grassi rispetto a quelli magri queste cose qui ma non è neanche tanto chiaro sto cercando di leggere meglio adesso ma di nuovo cioè questi l'idea è che il regolatore vada a esaminare l'algoritmo ok per trovare tracce rischi di discriminazione come dici tu contro i neri contro i gialli contro le minoranze eccetera eccetera ma poi come si fa a dire questo algoritmo discrimina ma che ne so i bosniaci per dire tu immaginati che casino ne viene fuori cioè io onestamente non 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 mi riesco a prefigurare come eh ogni giorno che Dio manda in terra un regolatore si mette a verificare che io credo fra un po' di anni saranno decine se non centinaia i sistemi di intelligenza artificiale il regolatore che dovrebbe fare dovrebbe andare ogni giorno a verificare che questi sistemi di intelligenza artificiale non creino non creino discriminazioni non non facciano non facciano non commettano abusi quello che in qualche modo è un interesse pubblico invece riguarda l'accuratezza delle informazioni che un sistema come chat GPT sputa fuori per esempio se su chat GPT si chiede chi è Fabio Scacciavillani si vengono fuori delle cose assurde come che io sarei un artista del Medio Oriente addirittura che ha fatto diverse mostre in varie parti del Medio Oriente viene fuori un sacco di roba sbagliata dalla data di nascita dai libri che ho scritto è incredibile quindi al limite questo potrebbe essere un aspetto in cui si dice se il sistema di intelligenza artificiale fornisce notizie palesemente false allora è tenuto a risarcire a modificare è soggetto a penali eccetera eccetera ma immaginiamo una cosa del genere che ci sia un sistema di intelligenza artificiale che viene allenato su internet ok quindi raccoglie tutte le informazioni dai siti dai database eccetera eccetera per fornire la risposta che può succedere perché se uno se uno chiede la terra è piatta il programma di intelligenza artificiale potrebbe dire sì insomma è una questione di battuta perché alcuni sostengono che la terra è rotonda altri invece che è piatta un'altra linea di pensiero invece ritiene che noi viviamo all'interno di una terra di un pianeta cavolo quindi quello è il possibile aspetto negativo dell'intelligenza artificiale ma io voglio vedere come qualche regolatore individui il modo in cui l'algoritmo può rimediare una cosa del genere voglio proprio vedere la legge prevede delle multe salate fino al 7% del fatturato però non si capisce chi riesce chi dovrà esercitare il potere di fare queste multe se un'agenzia europea delle agenzie nazionali per cui tutto questo è in aria capito come si potrà fare il compliance di questa di questa legge ma tu immagina che fossero agenzie nazionali ok che dovrebbero accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale in tutto il mondo che operano in Europa quindi dalla Patagonia al Canciatta non violino le regole europee allora immaginiamo che l'agenzia che questo potere venga demandato ad agenzie nazionali l'agenzia nazionale di Malta oppure della Slovenia o magari di Cipro si mette a imporre multe che ne so a Microsoft e magari c'è invece l'agenzia irlandese oppure quella danese o magari quella portoghese che non trovano nulla da ridire quindi immagino che chi ha scritto questo provvedimento abbia in mente un'agenzia europea che non è prevista la legge ma punto immagino che chi l'ha scritta questa legge questo provvedimento questa proposta perché non è che sia una vera e propria legge voglia accentrare i poteri perché sennò diventa diventa un circo e comunque infatti al secondo posto tra gli elementi principali c'è un riformato sistema di governance con poteri di intervento a livello europeo quindi vedi che ce l'hanno un po' in testa questa storia c'è questa c'è questo discorso sulla identificazione biometrica però attenzione c'è l'eccezione cioè i dati biometrici non possono essere raccolti però se l'autorità giudiziaria o le autorità investigative o bocche ne so i servizi segreti ritengono che sia utile beh allora quella è un'eccezione il che mi porta a pensare che comunque una volta che tu hai raccolti i dati biometrici cioè una volta che ci sono i dati ma come fai a controllare chi come perché quando li usa certo se vai in giudizio e hai raccolto i dati illegalmente questi dati raccolti illegalmente non sono una prova che puoi esibire in tribunale in corte d'assise dove che sia no se un servizio segreto usa quei dati e poi li fa avere feccio per ipotesi a un giornale amico per colpire qualche d'uno che sta antipatico al capo dei servizi segreti o chi esercita autorità di controllo sui servizi segreti come si fa a impedirlo? mandano il funzionario sempre con la solita valigetta la cartellina da Bruxelles investigare i segreti il concetto è il concetto Fabio è che siamo i soliti coglioni anche con questa legge è veramente sperimentato avere una minima esperienza sull'intelligenza artificiale e poi anche in America voglio dire non è che siamo proprio unici anche in America l'amministrazione Biden ha cominciato a sollevare problemi a dire bisogna stare attenti c'è stato questo vertice organizzato dal primo ministro inglese britannico Sunak mesetto fa più o meno in cui ha convocato insomma ha invitato anche paesi non solo avanzati ma del del cosiddetto sud globale che muova di moda sta cosa sud globale e per discutere le implicazioni per fare in modo che queste nuove tecnologie beneficino anche i paesi tra virgolette poveri e quindi per carità c'è un'attenzione delle autorità con le possibili implicazioni perché sulla carta l'intelligenza artificiale potrebbe essere davvero un game changer in tutto in tutti gli ambiti della vita umana e delle attività economiche quindi è giusto che le autorità si ponga nel problema ma che per esempio uno dei il quarto elemento principale della regolamentazione la proposta di regolamentazione dell'Unione Europea sia la migliore protezione dei diritti attraverso l'obbligo per le aziende che hanno che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio di condurre un assessment una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali prima di mettere in uso prima di diciamo diffondere il sistema di intelligenza artificiale ma come dovrebbe essere fatto sta valutazione dei rischi io proprio non ho idea io proprio e poi una volta che ha fatto questa valutazione dei rischi che succede chi è che la verifica se qualcuno dice no non c'è alcun rischio tutto a posto ha capito come esistono delle società che fanno il rischio ambientale che fanno la valutazione dell'impatto che fanno queste cose si forgeranno dalle società a posto è tutto parassitismo tutta crosta che si mette sui meccanismi economici è come questa boiata dell'ESG che non serve a niente serve solo ad alimentare una manica di personaggi inutili perché di questo si tratta che validano la conformità dell'ESG a queste e a quell'altro con ovviamente valutazioni spesso in contrasto inconsistenti eccetera eccetera e noi abbiamo in Europa appunto questa mania di ficcare il naso con burocrati occhiuti laddove servirebbe invece un approccio molto più dinamico molto più aperto all'innovazione con lo scopo di creare lavori inutili che gravano sui bilanci delle imprese e quindi ci pongono in una condizione di inferiorità di scarsa competitività a livello globale e questa è la storia degli ultimi trent'anni se non di più in Europa dove a furia di imporre lacce e laccioli che invece di fluidificare le legislazioni nazionali e di armonizzarle fanno sì che alle legislazioni nazionali si aggiungano quelle a livello europeo in guazzabuglio inestricabile da cui poi derivano conseguenze negative sulla capacità di innovare è questa un po' la la questione principale ho detto tutto dai non è che ci sia tanto altro da dire perché non è che la legge poi contenga tutte queste grandi novità no ma capito non è che da domani cambia il mondo è semplicemente un sintomo di come a livello comunitario invece di preoccuparsi di reggere la competizione con Cina e Stati Uniti di migliorare la competitività del vecchio continente si pensi principalmente a come impedire agli altri di eccellere perché di questo si tratta c'è proprio una pervicace ostilità all'innovazione che si concretizza in queste bagianate per lo più se senti solo questo cioè ascolta per assicurarsi che la definizione di sistemi l'intelligenza artificiale fornisca criteri sufficientemente chiari per distinguere l'intelligenza artificiale da sistemi di software normali tradizionali che cosa si chiama in causa si chiama in causa l'approccio suggerito dall'Ocse capito cioè bisogna prima stabilire se ontologicamente un software è intelligenza artificiale o invece qualcosa di diverso già questa è una perfetta idiozia perché fra dieci anni ma anche fra cinque io credo che tutti i sistemi di software avranno in qualche modo un elemento di intelligenza artificiale perché l'innovazione va in quella direzione anche oggi anche oggi se tu ti scarichi certi word processor no quando apri il foglio bianco c'è una scritta sopra benvenuto nell'intelligenza artificiale di non faccio pubblicità al software se tu vuoi scrivere che ne so una lettera di auguri di natale ci scrivi una lettera di auguri di natale è quello che lo ti dà la risposta quello è un word processor quindi una cosa tradizionale no non è un sistema però è integrato o meglio il sistema dell'intelligenza artificiale è integrato nel word processor che ne sai come andrà a finire per esempio con excel no è ipotizzabile che fra non moltissimo quando apri un foglio excel ti dirà ma vuoi andare a vedere se ci sono delle relazioni tra le serie storiche che hai salvato su questo foglio elettronico su questo spreadsheet e quindi che fanno mandano il burocrate del bursell a vedere se excel no è definibile come intelligenza artificiale o come sistema tradizionale queste sono così le considerazioni che mi suscita questa nuova alzata di ingegno siccome la GDPR la direttiva sulla privacy ha fatto molto eco nel mondo e molti paesi ce l'hanno copiata gratis no no proprio la comunità europea si fa come una specie di 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 essere la prima a creare la legislazione e e di e di essere copiata di essere il punto di riferimento ma essere il punto di riferimento legislazione altrui a me non me ne frega un cazzo capito si si picca di essere il punto di riferimento per gli azzecca garbugli mettiamola così perché poi chi sono questi paesi saranno l'Egitto il Messico no non mi sembra che ci sia la GDPR in Cina no non mi sembra che in America poi tutta questa protezione dei dati si hanno regolato l'AI capito perché prima di farla passare è regolata uno deve ottenere la protezione del governo per essere sicuro che che le AI stiano costruite su principi su principi comunisti ok quello anche è regolato e quindi non è una bella cosa che siano loro che di essere insieme ai cinese regolarla capito ci mettiamo in competizione così cimping che tra l'altro poi come tu ben sai e come sanno tutti quelli che sono andati qualche volta in Cina lì l'identificazione biometrica in Cina non è certo proibita assolutamente anzi è un fatto della vita e sanno probabilmente avanti di qualche anno rispetto agli altri perché sono incredibili qualunque persona nel giro di due secondi viene assolutamente identificata ovunque essa sia è veramente distopico la vita in Cina speriamo che questo l'Europa faccia qualche metta qualche paletto ma io ci credo poco onestamente perché questi sono sistemi cioè sono regolamenti che valgono per le imprese private e fin qui va bene ma io non credo che varranno per gli stati infatti c'è la l'eccezione per le agenzie di sicurezza per polizia e varie forze dell'ordine oltre che per i militari ovviamente bene Fabio beh Alberto saremo seguiremo queste evoluzioni delle capacità regolatorie dell'Unione europea e vedremo che risonanza avranno a livello globale perché si poi si dice che l'Unione europea fa da trendsetter ma ma i benefici a livello personale quali sono cioè come sappiamo tutti quanti noi la privacy è talmente ben protetta che siamo bombardati quotidianamente da telefonate di chi ci deve vendere eh il contratto per la per la fornitura elettrica il contratto per la telefonia mobile il contratto per il gas eccetera e non si riesce a debellare questo fenomeno quindi ecco poi in che cosa si estrinsecano tutte queste grida brussellesi ciao Alberto ciao un abbraccio ciao Fabio ciao ciao